Apriamo adesso la pagina comprensoriale parlando di Tarquinia, nuovo atto aziendale della ASD di Viterbo, applauso del sindaco di Tarquinia Mazzola che in queste ore si è fatto promotore di un consiglio congiunto tra i comuni di Tarquinia, Montalto di Castro e Monte Romano, ma sentiamo il servizio. Potenziamento dell'assistenza territoriale, riduzione dell'eccessiva frammentazione delle unità operative e assistenza diretta di chi ha patologie croniche. Il nuovo atto aziendale della ASD di Viterbo raccoglie il plauso del sindaco di Tarquinia Mauro Mazzola che in queste ore si è fatto promotore di un consiglio congiunto tra i comuni di Tarquinia, Montalto di Castro e Monte Romano. Considero molto positivi soprattutto due obiettivi, spiega Mazzola. Il primo è il potenziamento dell'assistenza territoriale per contrastare la mobilità passiva verso le strutture di altre province o regioni, unito alla riduzione dell'eccessiva frammentazione delle unità operative. Il secondo è l'assistenza diretta di chi ha patologie croniche per diminuire le file al pronto soccorso, codici bianchi e verdi. L'assemblea indetta da Mazzola si svolgerà venerdì prossimo 11 ottobre alle 16, prevista la partecipazione del commissario straordinario Luigi Macchitella e dei sindaci Sergio Caci e Maurizio Testa. Ho chiesto la convocazione del Consiglio Comunale per permettere ai cittadini di ascoltare dalla voce del commissario Macchitella e dei suoi collaboratori le linee guida del piano, afferma il sindaco Mazzola. È un buon atto aziendale perché mette le esigenze degli utenti al centro del sistema sanitario, segnando una svolta rispetto al recente passato. Per quanto riguarda l'ospedale di Tarquini, a Mazzola chiarisce e costituisce un imprescindibile punto di riferimento per la fascia costiera e dei comuni dell'immediato entroterra. Credo, rimarca il primo cittadino etrusco, che per garantire l'ulteriore crescita di alcuni servizi sia indispensabile una più stretta collaborazione con il presidio di Civitavecchia. Il sindaco Mazzola invita quindi tutti i cittadini ad essere presenti all'assemblea. Parleremo di un tema molto importante, auspico un'ampia partecipazione. Novità da Lumiere dove è stato nominato un nuovo coordinatore della protezione civile. Sentiamo il servizio di Romina Mosconi. Dopo le bufere, le proteste e le liti più o meno nascoste, l'assessore Superchi e il sindaco Battilocchio hanno dato un colpo di spugna in Prociv. Nell'ultimo incontro straordinario che si è svolto giovedì scorso, Battilocchio e Superchi hanno infatti annunciato di aver scelto un nome nuovo per dar vita a un rinnovato gruppo di protezione civile. E questo è Valentino Arillo, maresciallo dei Carabinieri e fondatore responsabile del centro operativo intercomunale di Prociv. Era da tempo, spiega l'assessore Superchi, delegato alla protezione civile, che nel gruppo c'erano problemi e urgeva una drastica decisione per far cessare ogni polemica. Dalla fondazione del gruppo ad oggi abbiamo sempre lasciato spazio ai volontari di scegliere da solo il proprio coordinatore, ma d'ora in poi saremo noi a decidere. La legge 100 spiega infatti che il sindaco è l'autorità locale di Prociv è unico responsabile del coordinamento dei soccorti e dell'assistenza alla popolazione e quindi spetta a lui scegliere la persona più adatta per capacità ed esperienza a svolgere il ruolo di coordinatore. Con il sindaco ci siamo confrontati e nella riunione di giunta abbiamo scelto di chiedere aiuto ad Arillo, visto il grande ed encomiabile lavoro che ha svolto per la sua preparazione e conoscenza del settore, per riorganizzare il nostro gruppo di protezione civile e mettere un punto su ogni divisione e polemica. Ci tengo a precisare che dopo le tante problematiche nel gruppo, dopo gli avvicendamenti fra i coordinatori, durante l'estate abbiamo chiesto a Gianni Costanzo di prendere in mano la situazione e dobbiamo ringraziarlo per il perfetto lavoro di coordinamento che ha svolto. I volontari della protezione civile però hanno continuato con le divisioni, le cene carbonare, e quindi è intervenuta l'amministrazione comunale. Fino alla festa d'autunno Costanzo e Barlattani coordineranno il gruppo e dal lunedì 14 comincerà, proseguo ancora su Perchi, la nuova era della protezione civile di Allumiere. Ho poi detto a tutti i volontari che devono iscriversi per sapere su chi possiamo contare. La settimana prossima faremo un bando pubblico per avvertire che sono aperte le iscrizioni per chi volesse entrare nel gruppo. Arillo da parte sua ha spiegato Ringrazio l'aggiunta Battilocchio per la fiducia accordatami. Ho accettato perché ritengo che sia un buon gruppo con volontari con grosse potenzialità e professionalità. L'obiettivo sarà la formazione di tutti per essere pronti a far parte del COI. C'è fermento in collina dopo la notizia dei quattro avvisi di garanzia per il sindaco Olandi, per il tecnico del Comunità Olfa Petralla, per il costruttore Costantini e per il geometra Costantini, particolare in questo servizio di Romina Mosconi. Grande fermento in collina dopo la notizia degli avvisi di garanzia recapitati al sindaco Luigi Landi per abuso d'ufficio, al tecnico del Comune di Tolfa Andrea Petralla, al costruttore Mauro Costantini e al geometra Marco Costantini, iscritti nel registro degli indagati, tutti e tre per abuso di lizio per la lottizzazione in zona lizera di Villetta Schiera, che lo scorso 23 aprile sono state poste sotto sequestro dagli uomini della Guardia di Finanza in esecuzione di un provvedimento emesso dal GIP. Quest'operazione rientrava nell'ambito di un'inchiesta su abusi di lizio e reati contro la pubblica amministrazione diretta e coordinata dalla Procura di Civitavecchia. Il problema nasce dal fatto che quest'area è una lottizzazione con più lottizzanti. Anni fa alcuni di questi proprietari hanno già costruito secondo la convenzione originale. Gli altri che invece non avevano ancora costruito hanno chiesto al Comune di modificare la vecchia convenzione per renderla più rispondente alla vita attuale. La proposta di modifica è stata discussa e approvata in Consiglio e quindi hanno proceduto all'edificazione secondo gli standard della nuova convenzione. Ciò che viene quindi contestato è questa modifica della convenzione. I cittadini esprimono solidarietà al sindaco. I consiglieri di minoranza hanno evidenziato il fatto che fino a che non viene approvato un nuovo piano regolatore non voteremo più, spiegano, nessuna delibera in tema di urbanistica e quindi siamo fuori da ogni situazione e non sappiamo nulla circa questa vicenda. Il consigliere di minoranza Antonio Marini spiega invece mi dispiace molto per quello che sta capitando. Il sindaco ha chiarito, è una persona seria e mi auguro che si faccia presto chiarezza, che tutta la situazione si ridimensioni presto e che venga dimostrata l'innocenza di tutti. Passiamo a Montalto. Il sindaco Caci ha indetto per domani un'assemblea pubblica fissata per il 10-18 presso il complesso monumentale di Sanzisto. Un'occasione di confronto tra l'amministrazione e i cittadini in un dibattito aperto durante il quale, informa il sindaco, i presenti potranno liberamente intervenire e porre quesiti di qualsiasi genere agli amministratori. L'evento, programmato già da alcuni giorni, è stato spostato da Piazza Matteotti a Sanzisto a causa delle pessime previsioni meteo. Si apre nel migliore dei modi la stigione 2013-2014 per la compagnia Schenexodia. Lunedì debutteranno alle 21, infatti, al teatro Manhattan di Roma con lo spettacolo La Damo. Bene, adesso lasciamo spazio nuovamente alla pubblicità e ci vediamo subito dopo con lo spot.